Salve amici, come promesso continuiamo i viti sul motore X19003. Abbiamo a confronto una testata già preparata, è una testata che è ancora originale, quindi andremo a fare prima una prova del flussaggio sulla testata originale e poi la prova che verrà fatta sulla testata già elaborata, anche se ci sarebbero da fare alcuni lavori che poi alla fine descriveremo perché è una testata già fatta e ho riscontrato dei problemi che bisogna evitare in qualunque modo da fare su altre testate o su altri lavori che voi volete continuare a fare. In questa prova, come vedete, ho piazzato già un attrezzo che andremo a simulare qualcosa di diverso che abbiamo fatto su altre prove. In che cosa consiste? Praticamente faremo un primo controllo normale, come un video che già abbiamo fatto di prima e poi rifarò la stessa prova simulando l'apertura dello scarico, non tanto perché abbiamo ricreato il riflusso sullo scarico, ma tanto per vedere l'ostacolo che porta all'apertura dello scarico man mano che va aprendo l'aspirazione, tanto così per avere un'idea, anche perché poi, come tutti sapete, l'aspirazione sia lo scarico a un ciclo, l'apertura dell'aspirazione che poi coincide con la chiusura, quindi l'ostacolo che abbiamo sull'incrocio della valvola di scarico, non l'andiamo più ad avere man mano che c'è la chiusura dell'aspirazione. Quindi faremo questa prova e dopo aver fatto quella sulla testata già preparata andiamo ad analizzare alcuni problemi che ci sono e al limite vedere quale sono le geometrie da poter utilizzare per questo motore. Quindi non vi annoierò facendo la prova del video nel filmato, però lo andiamo ad analizzare dopo. Allora amici, abbiamo terminato di fare le due prove sulle testate e poi ho effettuato pure un altro lavoro sulla camera di scoppio. Ora andiamo ad analizzare i dati e poi smonterò la testata e vi faccio vedere i lavori che sono stati fatti sulla testata nella camera di scoppio. Poi voglio dare un consiglio. Per il mio parere è meglio non comprare lavori già fatti da seconda mano e quindi se dovete fare dei lavori effettuateli sul vostro materiale perché non sappiamo mai cosa andiamo a trovare sui lavori già fatti. difatti ora vi farò vedere alcuni difetti, difetti proprio no, ma problemi che uno dovrebbe evitare di apportare sulla testata perché è meglio lavorare sul proprio materiale. quindi ognuno di noi già sa quello che sta facendo e non avrà brutte sorprese. Poi per l'altro consiglio che mi è stato dato di effettuare qualche chiarimento sui termini tecnici che abbiamo usato fino adesso sulle testate o anche sul motore che abbiamo fatto sul lavoro del Peugeot. Comunque sul video che dedicherò alla seconda parte della fluidinamica dei condotti andrò come vedete a spiegare alcuni termini tecnici che ormai io mi sono abituato a parlare anche se di quante parole mi vengono per la mente sono sempre confusi. Comunque andiamo ad analizzare i dati e poi vi farò vedere il lavoro. E allora guardate l'immagine amici se voi vedete la polvola è a 12 mm aperta quella parte chiara in fondo dietro lo selo della valvola più chiaro non è altro che la camera di scoppio dove c'è la parete della valvola dove va ad aprire quello è l'ostacolo che noi troviamo quando andiamo ad aprire la valvola quindi l'unica entrata dove è più sotto e lateralmente dove c'è la valvola di scarico di qui si riesce a stabilire poco. Ora andiamo a smontare la testata per vedere il miglioramento della prova. E allora come spiegato all'inizio ho voluto provare un'altra tipologia di prove ho stimolato l'apertura dello scarico per vedere il contrasto che c'è su questo motore analizzando le prove questa è la seconda prova quella con la valvola di scarico aperto quindi non abbiamo riscontrato nessun peggioramento all'entrata d'aria dentro la camera di scoppio prima perché sono tutte e due sullo stesso piano le valvole e poi non si sovrappongono a livello di incrocio ora metterò il diagramma della testata quella da corsa abbiamo visto che alle basse aperture abbiamo avuto poco incremento rispetto alla testata che è stata lavorata invece in alto la portata è migliorata anche se poi arrivando a 9 mm di alzata si è stabilizzata a livello di riempimento quindi non aveva più miglioramento allora che cosa è stato dovuto? alle basse aperture abbiamo visto che queste tipologie di testate portano un ostacolo è stato fatto dalla parte dove entra l'aria dentro la camera ora appena smonterò la testata vi farò vedere qualche miglioramento che è stato fatto di fatti ho riflussato di nuovo la testata con quel lavoro sulla camera di scoppio e abbiamo visto il miglioramento dove è stato ora andiamo anche perché poi su quello da corsa ho fatto pure la prova di contrasto con la valvola di scarico aperto sono arrivato a 7 mm perché poi la portata era uguale ma non abbiamo riscontrato nessun ostacolo invece lavorando la camera di scoppio abbiamo migliorato come vedete dopo un millimetro di apertura di valvola via via crescendo abbiamo migliorato l'entrata d'aria dentro la camera di scoppio anche in alto abbiamo migliorato questo perché abbiamo tolto un ostacolo all'entrata dell'aria secondo il mio parere ancora potrebbe migliorare perché la valvola è troppo grande per questo motore a volte non è meglio andare ad allargare la valvola per avere più entrata d'aria perché porta anche un ostacolo sull'entrata d'aria quindi ora smonto la testata e poi andiamo a descrivere questo miglioramento e allora amici è ancora da definire il lavoro sulla camera di scoppio comunque questo è l'ampliamento che è stato fatto come vedete dal profilo rispetto alle altre qui abbiamo questa leggera in cavatura dove ci aiuta ad uscire la portata di aria sia da questa parte lateralmente la valvola di aspirazione anche da questa parte dove c'è poi la parte più bassa della camera di scoppio in quello originale se vedete c'è questo spazio attorno alla valvola quindi abbiamo libero anche leggermente l'ingresso poi la portata è limitata come aria dentro la camera perché il condotto è molto ristretto quindi tra questa e quella preparata con le valvole a mio parere sono troppo grandi questo ostacolo che ci limita l'ingresso perché abbiamo un'inclinazione del condotto rispetto all'uscita che ci costruisce un pochettino quindi da fare assolutamente questa incavatura sulla camera e poi ci sarebbe da farlo a mio parere anche sullo scarico perché questa parte qua quando il piscione sale provoca quella accelerazione dell'aria di scoppio ma sul momento porta un pochettino di ostacolo quindi all'uscita porta un pochettino di ostacolo si potrebbe agevolare o ammorbidire arrotondando questo angolo qua quali sono i lavori da evitare? in questa testata a forza di fare sempre il riporto delle sete si è andato all'incrocio delle due sete sia di scarico che quella di aspirazione quella di scarico si è dato un pochettino di robustezza però si poteva evitare di arrivare a queste misure tanto non è l'uscita della sete che ci ostacola perché già sul passaggio della sete rispetto al condotto abbiamo dei 4 mm in più quindi non è qua che ci porta ostacolo e quindi da montare una valvola più piccola questa sarebbe più opportuna si eviterebbe di stare l'ostacolo delle sete proprio appiccicate che se va a avere un problema su una sete l'altra esce fuori pure come vedete dalle valvole andando a montare la valvole questa è quella di scarico questo è il passaggio che abbiamo all'uscita montando la valvola di aspirazione questa è la parte dove abbiamo l'uscita dello scarico è da questa parte questa come abbiamo detto ci porta un pochettino di ostacolo questo angolo quindi sarebbe di arrotondare e liberare un pochettino come abbiamo fatto sull'aspirazione quando abbiamo l'ingrocio delle valvole come abbiamo visto non porta tanto ostacolo perché mentre la valvola sta uscendo è sullo stesso piano quindi la portata di aria esce sia da questa parte che dalla parte vicina alla candela e comunque va ad ostacolarsi poco e invece questo lavoro è da fare assolutamente quindi come lavoro di testata dobbiamo migliorare questa uscita quindi consiglio di andare a fare il condotto lo possiamo lasciare per com'è 29.5 prima della valvola del profilo della guida quindi la guida la andiamo a arrotondare leggermente non c'è bisogno di fare la conica ma arrotondarla leggermente dopo la conicità allora 29.5 prima della guida l'imbocco 35 volente si può lasciare anche 34 non portare a 35 perché poi comanda la chigliettina che andiamo a mettere l'interno sede che per adesso è 34 nella testata questa preparata il consiglio mio è di andare a fare 32 perché andiamo a montare le valvole più piccole e da fare la geometria della sede l'interno arrotondato con l'uscita con la gradazione più larga e più stretta di sotto sulla valvola abbiamo detto da 40 il consiglio mio da fare è il massimo 38.5 così andiamo a diminuire l'ostacolo all'uscita da dove arriva la colonna d'aria che entra nel cilindro sia da questa parte che poi da questa parte queste sono le misure che io consiglio di andare a fare su queste testate e come abbiamo visto anche poi anche rispetto a queste misure siamo limitate a una certa altezza della valvola che non c'è più portata perché poi va a comandare sia il condotto che questa parte che va a costruire sia della valvola che vicino alla camera di scoppio le parete che è l'unica parte che ci porta ostacolo è questa qua come abbiamo visto bene ecco 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 Grazie.